ciao hikers buongiorno la notte è andata così così me l'aspettavo meglio perché comunque ha piovuto tantissimo un po tutta la notte ma veramente una pioggia torrenziale siccome la mia duplex inizia ad essere veramente vecchiotta e ha segni di usura qua e là non è più affidabile al cento per cento nonostante un po di riparazioni a ogni modo la nota è passata discretamente e adesso sto puntando dritto verso il confinale ce l'avevo già davanti alla tenda e adesso ci sto proprio andando incontro speriamo schiarisca un po perché per il momento è ancora molto molto coperto sarebbe un peccato farci il giro e vedere poco ho appena sorpassato il bivio che permetteva di scendere a santa caterina e in quel punto mi sono reso conto che c'era questo sentiero quello che sto percorrendo adesso che permetteva comunque di congiungersi al giro del confinale senza però perdere i 400 circa metri di dislivello per arrivare a santa caterina in realtà a santa caterina c'era una cosa che mi serviva era un negozietto dove potevo fare una mini rifornimento di cibo perché ho ancora roba però magari avrei potuto prendere un paio di panini cose del genere tuttavia ho optato per libidinosità e goduriosità del percorso invece che pancia piena no comunque alla peggio vado di barrette e poi a ogni modo ci sono mi sembra tre rifugi sul percorso quindi vai così verso il giro del confinale e oggi cerco di fare bei chilometri superi inizia 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 aggiornamento, volevo annunciarvi che sono ufficialmente sul giro del confinale e per celebrare questo importante momento è venuto anche il sole che non vedevo da quattro giorni davanti a me ora, c'è una montagna veramente impressionante, ci ha nevicato su stanotte, ho guardato le mappe, è il Gran Zebrou 3008 e qualcosa notevole. Era venuto a trovarmi il sole, sì? Madonna, madonna! Giusto il tempo di arrivare qua a questo rifugio, rifugio Pizzini, che ha iniziato a diluviare di nuovo, nonostante non fosse in previsione, però qua a queste quote è un po' così. Sono stato dentro due ore a scaldarmi un po' e a stare al coperto. Adesso gocciolo ancora, un po' e cosina, però spero che non faccia più di tanto. A ogni modo è freddo, veramente, veramente freddo. Adesso devo darmi una mossa, devo arrivare al passo Zebrou, quota 3001, e poi cercare di abbassarmi il più possibile sull'altro versante, fare più strada possibile, perché è freddo, quindi voglio abbassarmi. Speriamo che poi non piova, non dover mettere la tenda in maniera un po' infame, dai, speriamo. Speriamo che non piova, non piova. Oggi doveva essere la prima giornata di sole della settimana, invece sono partito dall'altro rifugio con poca pioggia, sono arrivato al passo che pioveva poco poco, poi scendendo ha iniziato a piovere. In pratica sto camminando sotto la pioggia da circa quattro ore, quattro ore e mezza, sono veramente fradicio. Dio solo sa quello che c'è nel mio zaino, com'è, nonostante dry bag, eccetera, però dopo tutte queste ore. Tra l'altro ho fatto veramente un sacco di chilometri oggi, poi magari faccio il calcolo, perché però secondo me sarò attorno ai 25 chilometri e parecchio dislivello, perché sembrava molto scorrevole questo giro del confinale, però in realtà ci sono dei bei dislivelli. E vabbè, tutto ciò per dire che sono abbastanza combattuto, però sto seriamente pensando di chiuderla qua, no scherzo, sto seriamente pensando di fermarmi al prossimo rifuso per la notte anche, per asciugare le robe e essere in pista domani mattina. Penso che farò così, perché qua non accenna a smettere. Mi dispiace un po' perché non è il mio stile, però quando ci vuole, ci vuole. Ciao ragazzi, eccomi qua con gli updates dal rifugio. Vabbè, è assurdo perché quando sono arrivato, appena sono arrivato, ho smesso di piovere, è venuto fuori un sole che scaldava tantissimo, anche se ormai era basso. Ero qua, ormai stra 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 affamato, ho chiesto almeno per la cena, e ho chiesto anche se avevano un posto tipo locale caldo, dove poter asciugare le robe che erano fradice, era tutto fradice. E niente, in realtà non avevano un granché, quindi ho messo tutto al sole per un'ora. Si è asciugato abbastanza, un po' tutto, dai. Dopodiché mi sono seduto a cena e dopo cena mi è salita una stanchezza, perché comunque la giornata di oggi è stata veramente, veramente devastante. E all'idea di poi uscire, cercare un posto per la tenda, camminare ancora e star fuori al freddo, perché a freddo mi è passata veramente la voglia. E quindi devo dire che a malincuore ho ceduto, ho ceduto e sto qua a dormire stanotte su un letto al caldo e così recupero bene. Domani sono pronto per un'altra giornata bella, intensa, perché domani dovrebbe essere sul serio stavolta, ne lo auguro. Dovrebbe essere bel tempo, tempo stabile, almeno per domani, quindi bisogna poter sfruttare la giornata al cento per cento. Bene ragazzi, ora vi saluto che il mio letto mi attende. Ciao hikers! Ciao hikers, buongiorno! Ho aspettato un po' stamattina prima di fare un video per raccontarvi un po' come è andata la notte. Ho aspettato di risalire tutto il costone che mi aspettava, sono 300 metri di dislivello e adesso li ho fatti e d'ora in poi il sentiero dovrebbe stare in quota ed essere molto godurioso. Come potete vedere oggi finalmente c'è il sole e dovrebbe essere così circa tutto il giorno. Infatti ne ho appena approfittato, ho fatto un bucato perché la roba non l'avevo praticamente mai lavata proprio per il fatto che col tempo così la biancheria non si sarebbe potuta asciugare. A ogni modo, com'è andata la notte? La notte è andata molto molto bene, ho dormito molto bene, però faccio fatica a farmi andare giù sta cosa dell'appoggiarmi a delle strutture a pagamento. Lo ritengo un po' una sorta di fallimento, il mio modo di andare in montagna ma anche di viaggiare altrove, diciamo che trova il suo ideale nell'arrangiarmi un po' in tutto. Diciamo che io vorrei prediligere a tutti i costi quella che è la transizione, transazione sociale invece che quella economica perché, non lo so, anche l'altro giorno che invece di prendere l'autobus ho cercato di fare autostop, ecco, quello per me è una transazione sociale, cioè tu persona ti fermi, perché o ti faccio pena o ti ispiro fiducia, comunque è una cosa che esula completamente da quello che è il mio status sociale, da quello che è il mio conto in banca, l'avere o non avere soldi. Trovo che questa sia un'ottima porta per accedere all'umanità di nuovo delle persone, a questi rapporti autentici, rapporti umani. Il denaro è comodo, è estremamente comodo, però si mette in mezzo e svuota dell'anima, svuota dello spirito i rapporti tra persone. Non ci sono più rapporti veri tra persone ma sono rapporti sterili, rapporti economici. Ecco perché anche la scorsa notte ho fatto veramente veramente fatica, sono stato combattuto fino all'ultimo sul restare nel rifugio oppure andare per conto mio. Ci tenevo a specificarvi questa cosa perché probabilmente mi avete visto più volte a cercare di evitare le transazioni economiche, non è per tirchiaggine ma è proprio perché secondo me ne perde veramente tanto il viaggio. Mi viene in mente la scena un po' senza dubbio estrema di Chris McCandless nel film Into the Wild dove lui quando se ne va, alla fine, quando lascia la macchina, prende i soldi che ha e li brucia. Bene hikers, detto questo io mangio qualcosina, mi premio alla fine di questa salita e poi mi premio di nuovo perché mi aspettano penso una cosa tipo 10 chilometri di sentiero che a giudicare dalle mappe sembra essere parecchio godurioso. Il sentiero qua è diventato una stradina forestale. Comunque tanto tanto bello questo sentiero perché veramente sta in quota e è molto regolare, molto scorrevole, quindi bello bello. Adesso sono arrivato sopra i centri abitati qua sotto e ho visto che c'è copertura telefonica mi sto un po' organizzando per i prossimi giorni perché probabilmente domani sera poi scenderò a Bormio e mi trovo con Marco che è un ragazzo che è venuto alla tendata, un ragazzo che sta facendo il tirocinio al parco dello Stelvio perché studia, 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 scienze naturali. Ma soprattutto Marco è un aspirante PCT hiker per il 2022, quindi mi fa doppio piacere vederci. In più sì, è molto bello questo sentiero però praticamente sono costantemente da solo, quindi un po' di socialità diciamo che la bramo. La valle qua dietro di me, o alla mia destra, che vedete, è la valle dove devo salire poi dopo essere sceso qua sotto a Santa Caterina è la valle dei fantastici laghetti Paraflu. Non so se ci arrivo direttamente questa sera ma penso di no perché c'è troppo dislivello e se no ci arrivo comunque domani mattina presto. Mi sono appena fermato per uno snack e un riposino. Ora sto scendendo e ho ufficialmente lasciato quella che è la rotta ufficiale, se così si può definire, del giro del confinale. Quindi appunto anche il giro del confinale pseudo completato, dico pseudo perché ne ho tralasciata una piccola porzione per via del mio approccio al giro e del mio punto di uscita al giro per renderlo un po' più razionale. Ma comunque tutto sommato un bel giro, peccato per il tempo che mi ha impedito di poter apprezzare veramente le viste, i paesaggi. Ora appunto sto scendendo a Santa Caterina dove dovrò comunque aspettare le 16 perché il negozio apre il negozio, la piccola minimarket, apre alle 16, comprerò qualcosa e poi mi avvio sull'altro costone per la valle che porta ai laghetti di paraflu. E insomma dai, non ho trovato il milkshake ma il gelato c'era. Quindi ottimo, adesso ho un po' di siesta qua in paese perché devo aspettare un'ora prima che apra il minimarket. Faccio un po' di spese e poi back on trail. Eccomi qua, back on trail, mi sono veramente rilassato, gelato super in paese a Santa Caterina e poi ho fatto anche una piccola rifornimento di cibo giusto per stasera e domani mattina perché poi tanto già domani nel tardo pomeriggio sarò a Bormio. E niente, siamo in due, siamo in due. È venuto a trovarmi Marco, il ragazzo di cui vi ho parlato prima. Però è stata una sorpresa perché dovevamo vederci domani a Bormio, invece lui ha finito un esame prima del previsto oggi. È venuto qua a farsi un paio d'orette a piedi insieme. Quindi niente, questo è il famoso Marco aspirante PCT Hiker 2022. Lo vedrete sicuramente anche domani. Ciao Hikers, eccomi qua sistemato nella mia tenda. Ho trovato un posto spettacolare, no? Prima cosa, anzi, sono sceso al torrente a lavarmi. Però era un torrente stra impetuoso, l'acqua bella gelida. Però mi sono lavato, insomma. E poi sono tornato su, ho montato la tenda in questo posto che è fenomenale. Cioè, è spettacolare veramente dal punto di vista della vista che c'è. È incredibile. Ho proprio davanti il Monte Confinale, in tutta la sua maestosità. Proprio posso vedere tutta la parte verso questo versante che ho percorso stamattina. E però, come ogni bellissimo posto, posto instagrammabile da tenda, è pessimo dal punto di vista funzionale. Perché qua, ad esempio, c'è un sacco di vento. Quindi ho montato la tenda molto bassa, soprattutto da questo lato, il lato sopravento. In modo che stia più bassa possibile e faccia entrare meno aria possibile all'interno della tenda. Speriamo. Prevedo una notte abbastanza fresca. A ogni modo, dai, è comunque un punto estremamente, estremamente piatto. Quindi quello è buono. Detto questo, sono veramente contento di aver visto Marco oggi. Sempre, ogni volta mi stupisco di quanto sia importante, sui trekking, fare della socialità e delle interazioni sociali di valore. Quindi sono proprio contento. Sono contento che ci rivediamo domani. E così, paesaggi, come dico sempre, i paesaggi contano. I paesaggi sono molto belli, ma il lato sociale è veramente, almeno per me, fondamentale. Poi, appunto, percorrendo questo trekking, mi sto rendendo conto che non c'è in giro un cane. Vabbè, chi frequenta questi sentieri sono comunque persone che vanno magari in giornata. e quindi non ho ancora incontrato nessuno che andasse a fare un trekking lungo che fosse fuori col classico materassino arrotolato all'esterno dello zaino. E quindi oggi sono stato proprio contento di vedere Marco. Detto questo, io adesso mi sa che mi corico. e sono gasato per domani mattina, perché i laghi sono poco sopra, sono 200 metri di dislivello più in su. E sono proprio curioso di vederli, se sono veramente così paraflu, così caraibici, come dicono, insomma. Bene, bene. Allora, anche per oggi lo chiamiamo un giorno e ci vediamo domani. Ciao, hikers! Ciao!